La partita è stata conciliata con lo spettacolo. Lo spettacolo ci deve essere, però deve essere anche con concretezza e calcio. Noi abbiamo un'identità di gioco, però bisogna avere la giusta mentalità anche quando non si è in possesso palla, essere più aggressivi, più attenti, se vogliamo fare un campionato competitivo. Ci aspettiamo un Varese così reattivo? Il Varese l'ha sempre dimostrato, è una squadra di categoria, ha una potenzialità offensiva devastante. C'è giocatori come Pavoletti, come Neto, come Zecchino, sono giocatori importanti in questa categoria. Noi abbiamo tanti giovani, bisogna crescere, però dobbiamo farlo in fretta.